E' inchiesta America's Cup, ultimo atto, dalle parole ai fatti, è proprio il caso di dirlo. Dopo le inchieste della magistratura ordinaria e contabile, dopo l'interessamento del UE sull'utilizzo dei fondi strutturali da parte della regione Campania, che di strutturale non hanno lasciato nulla, si arriva alla conclusione della vicenda attraverso le parole del rappresentante dell'Alpi, ascoltato dalla Procura e quelle dell'Avvocato Lucio Varriale, uno tra i principali interpreti delle inchieste giornalistiche che hanno condotto magistratura e Parlamento europeo ad aprire gli occhi. Ho depositato proprio stamattina una richiesta di essere ascoltato, perché è giusto che i magistrati svolgano senza interferenza il proprio lavoro, però adesso è il momento di ascoltare chi tra l'altro è stato ascoltato anche dalla Corte europea. Ho provveduto da buon cittadino a depositare un memoriale, un libro che è stato stampato e che in tre lingue, italiano, francese ed inglese. Questo libello che è stato inviato ovviamente a tutti i parlamentari europei, circa mille, perché ci è stato richiesto, è stato mandato a chi ci ha contattati, cioè i massimi esponenti dell'Europa, Barroso dalla parte, il Presidente della Corte dei Conti, nonché il Presidente della Corte dei Conti, settore OLAF, cioè quello per le truffe ai fondi europei, abbiamo dato tutte le spiegazioni che loro peraltro affermano di aver ricevuto anche da altre fonti. In verità noi abbiamo protestato soprattutto per questa assegnazione dei fondi della comunicazione. In effetti i fondi della comunicazione dalla Giunta Caldoro vengono distratti dalle finalità e dagli aventi diritto causando un disastro nell'ambito dell'occupazione del settore, tanto è vero che stanno scomparendo tutte le emittenze locali e quindi sono fatti, quindi nessuno potrà dire che non è vero, non sono state fatte bandi, non sono state fatte valutazioni meritorie, quindi una vergogna, è un atto criminale, non solo perché è illecito, ma è criminale perché ha buttato in mezzo alla strada tantissimi operatori del settore. La Corte Europea mi ha scritto, in base alle informazioni formite ufficialmente dalle autorità regionali. A tutt'oggi nessuna spesa è stata certificata alla Commissione Europea sul progetto in questione. Si parla appunto di occupazione e noi abbiamo visto che le emittenti che hanno avuto questi fondi senza alcun bando, ma si può dire tranquillamente pilotate ab inizio e noi abbiamo anche indicato che la pilotate, nel periodo in cui utilizzavano questo sistema avevano dipendenti in cassa integrazione. Noi ci battiamo perché i fondi della comunicazione vengono distribuiti equamente a tutte le emittenti. Oggi in Campania sono state perse circa una centina di aziende, qualcosa in più, altre se ne perderanno l'altro prossimo e abbiamo fatto il calcolo che perlomeno 200 giornalisti vanno in mezzo alla strada, più tantissimi operatori tecnici eccetera, ma nel piccolo senza l'indotto, perché poi l'indotto sappiamo bene che ha altre esigenze e altre occupazioni. Il commissario Anna, sulle nostre carte, le nostre c'è lì. Poi, se vogliamo proprio dirla tutta, c'è uno che ha confessato, il gestore della Coppa America, chi è? Un certo Hubler, che ha avuto l'incarico, e cosa ha detto l'intercettazione? È una puttanata, l'ha detto lui, cioè chi gestisce? Ha detto che la Coppa America è stata una puttanata. L'ultima notizia sulla truffa, perché è una truffa, posso dire quelli che vogliono, American Cup, contatti solo campani, Coppa America poco internazionali, i contatti web solo sul cittadino, avrebbero fatto 900.000 contatti.